Un saluto a tutti gli amici di Youtube dal vostro Johnny Break Come avete potuto vedere dal titolo del video Oggi parlerò delle novità riguardanti il jailbreak della PS4 Playstation 4 Si praticamente da qualche giorno sta circolando in rete un presunto video Dove mostra il funzionamento di un mod chip per PS4 Il mod chip in questione si chiama PS4 MTXK Che praticamente a livello visivo sembra un comune mod chip Come quelli che si montano su Xbox e su PS2 Ma il funzionamento è un po' diverso Perché questo mod chip ha integrati due led e due tasti switch Praticamente il funzionamento è questo qua Il mod chip si installa sul chip BIOS della PS4 Una volta installato praticamente dopo svariati collegamenti e scollegamenti Di cavo Ethernet c'è la possibilità di poter condividere un sacco di giochi con chiunque Con questo mod chip una volta installato si possono condividere account e giochi Ma d'altra parte non si può usare la PS4 per collegarsi a Facebook E insomma a email eccetera Perché c'è la possibilità O c'è la possibilità che questi dati vengono divulgati con altre persone Quindi da questo punto di vista non è tanto affidabile Quindi la PS4 andrà usata soltanto per giocare ai giochi e basta Per quanto riguarda invece l'installazione L'installazione come potete vedere dalle foto Sono praticamente sei fili Sei cavi insomma che si saldano C'è la versione slim che si salda direttamente sul chip E poi c'è la versione fat Che la si può installare non sul chip ma su altri punti Altra cosa che non tanto piace di questo chip è che essendo che ci sono i due pulsanti La console nel video viene fatta vedere praticamente aperta Quindi una volta installato per chiudere la console bisogna fare davvero un modding particolare al case In senso che dovrebbero essere inseriti due tasti al case e due fori per vedere i led Perché bisogna comunque poi vedere lo stato dei led Perché vanno premuti i tasti in base ai led che si accendono e spengono Diciamo che non è una vera e propria modifica Diciamo non è una vera e propria modifica come le vecchie modifiche che noi conosciamo Però piano piano è comunque un qualcosa Il chip in questione ha un costo di 49,90€ E secondo me per quello che permette di fare è un costo esagerato Molto probabilmente Sony prenderà comunque dei provvedimenti E siccome c'è in gioco il fatto che la console va collegata a internet Quindi molto probabilmente ci potrà essere anche qualche problema o rischio di disattivazione account Niente per il resto è comunque una news È comunque un qualcosa di reale perché è stato certificato e la condivisione dei giochi è reale Però per il resto non è una vera e propria svolta al 100% Vi ricordo che l'unica e vera svolta sarà quella di trovare un exploit nel firmware e poterlo patchare Per poter creare un custom firmware Solo in quel caso là si potranno creare degli emulatori Insomma un qualcosa che potrà far avviare homebreware e comunque bug up di giochi Per il resto vi terrò comunque aggiornati Iscrivetevi al canale Mettete un mi piace se questo video vi è piaciuto Un saluto e un abbraccio dal vostro Johnny Break Ciao ciao